C'è da dire che qui c'è sempre una grande penuria di modelli volontari, probabilmente temero di finire cavia prestante sul canale YouTube, quindi quando devo provare qualcosa devo affidarmi all'autoscatto e se ci hai provato sai che è una cosa veramente disagevole, cioè c'è da darsi un bel po' da fare. Trova la scena, prepara la camera sul cavalletto, mettila nella posizione giusta, prendi le luci, mettile nelle posizioni giuste, guarda la durata delle luci, fai la prima prova per le pose, fai la prova per le luci e alla fine è talmente tanto uno spostarsi tra la posizione del modello, che sei tu però in realtà non sei tu, e la posizione della fotocamera e delle luci, insomma di tutto il resto del set, talmente tanto un via vai che ti stufi di finire ancora prima di cominciare. Se poi aggiungi lo shock di vederti nella foto, sì perché lo specchio non è cattivo come la tua fotocamera, lui non ti restituisce quell'immagine brutale dove si notano i pori dilatati, il nasone, gli occhietti piccoli stanchi dalla sera prima, la cavizia incipiente che speravi di non avere ereditato dallo zio Alfonso ma in realtà ce l'hai insieme ai capelli bianchi. E questo lo trova solo inquadrandoti la faccia, pensa se ti inquadrasse tutto, cioè lì un disastro. Tutto questo perché ho comprato una nuova luce led continua professionale per gestare i video su youtube, questa qua. E siccome ce l'ho qua appoggiata sul suo supporto ed è bellissima, ho pensato perché non la posso usare anche per fare i ritratti? Sì perché io in realtà nella mia testa non ho mai pensato di comprare una luce continua per fare delle foto, perché la prima cosa che ti viene da comprare è il flash, perché costa poco, è molto potente, è piccolo, è leggero, lo puoi usare anche all'esterno, ci puoi mettere modificatori. Insomma sembra un'ottima soluzione. Però adesso che ci sono queste bellissime nuove luci led da studio, come faccio a sapere cosa comprare? Sì perché io davvero mi sono chiesta perché non abbia mai usato una luce come questa per fare le foto in studio. Infatti il flash ha un enorme difetto, che è quello di fare luce solo per un brevissimo lampo. Significa che per posizionarlo nella posizione giusta hai solo una luce pilota, che non è come quella del flash, quindi non hai un'idea di quello che verrà fuori dal tuo scatto, cioè di cosa sarà illuminato e di come sarà illuminato finché tu non hai scattato. Quindi spesso succede che non è buona la prima e dovrai fare più prove per raggiungere il tuo risultato, soprattutto se non sei esperto di illuminazione. Quindi succede spesso che non è buona la prima e dovrai fare più scatti per raggiungere il risultato che vuoi, soprattutto se non sei pratico di illuminazione artificiale in fotografia. Quindi dovrai fare prima degli scatti per vedere la posizione delle luci e poi degli scatti per controllare che la potenza che hai impostato sia quella corretta. Ci perdi un po' di tempo. Questa cosa cambia con la luce continua perché è sempre accesa, quindi come la posizioni vedi immediatamente dove illumina e come illumina e ti fa risparmiare un sacco di tempo. Per me che convivo con questa cosa degli autoscatti diventa davvero una cosa molto comoda, soprattutto perché hanno anche il telecomando. A proposito, se la riuscisse a spostare un po' più in qua, vediamo se così migliora. Sì, perché tanto più avanti non lo posso mettere perché di fronte c'è la finestra che di solito è la mia principale fonte di luce, però adesso ormai è sera quindi non sta più illuminando molto. Sì, mi sono persa perché ho guardato una valanga di cose sull'Artemis che è stato lanciato finalmente dopo un sacco di imprevisti sulla Luna, dopo tantissimi anni. E infatti volevo anche commemorare questa cosa con la mia maglietta comprata al Kennedy Space Center qualche anno fa. Quindi queste cose affascinano. Ma torniamo a noi. La luce continua che compri oggigiorno è fantastica perché è pulita, bianca e costante. Però prima dell'evento delle luci LED non era così perché le lampadine che si avevano, il tungsten, il neon, insomma quelle cose piene di dominanti e neanche tanto potenti. Erano utili per effetti creativi. La luce LED invece è potente e può essere fredda, cioè dico può essere perché in realtà esistono delle luci da studio che possono essere sia dimmerabili, quindi puoi regolare la potenza, ma anche possono cambiare temperatura di colore. E che li rende ancora più utili in fotografia. Mentre invece se devi cambiare temperatura di colore a un flash devi metterli sulle gelatine. Così oggi la luce continua in fotografia può essere utilizzata come ottima alternativa al flash. Una cosa invece che riesce molto bene al flash e molto meno alla luce continua è la potenza della luce. Infatti il flash riesce a condensare una grande potenza in un attimo di lampo luminoso. Cosa che in una luce continua quella potenza è difficile da raggiungere e soprattutto più la luce LED è potente più sarà costosa. Comunque io non consiglio di comprare delle luci LED da studio continue per la fotografia con una potenza inferiore ai 60 watt. Meglio comprarle da 100, dimmerabili, così in caso se serve meno luce la si abbassa come ho fatto io adesso con questa che 100 era troppo forte e adesso con 70 sta andando meglio. Il flash è anche più stabile come temperatura di colore della luce, infatti è tarato a 5000 Kelvin. La luce LED invece col tempo potrebbe oscillare di temperatura di colore anche se ce ne vuole. Più facile invece che esca dalla fabbrica con delle dominanti magari un po' verdine, magari un po' più violacere, magari un po' più calda, magari un po' più fredda. Certo che se compri una luce LED da studio e ci spendi su dei soldi e controlli che sia anche a temperatura certificata sei più tranquillo. In ogni caso se compri una luce LED con la temperatura di colore regolabile risolvi un po' questo rischio. Oppure puoi sempre usare delle gelatine. Però se stai utilizzando più punti luce differenti in un set potresti perderci del tempo a sistemare, a tarare tutte le temperature di colore, tutte le dominanti. Un'altra cosa a favore del flash è la pila, perché la luce LED deve avere della corrente, cioè deve avere un filo che deve essere attaccato a una presa. Quindi non la puoi utilizzare in esterno a meno che non ti porti un generatore ecco. Comunque esistono dei LED che hanno una pila all'interno integrata, però sono più che altro dei giocattolini. Cioè non è che li puoi utilizzare come utilizzare se una luce continua da studio. Cioè non li puoi usare al posto di un flash. Alcuni di questi però hanno l'opposità di poter cambiare il colore della luce. Tipo virarlo dal viola al verde, al giallo, al rosso. Cosa che li rende un po' più interessanti per gli effetti creativi. Comunque sia il flash che la luce LED da studio può essere utilizzata con i modificatori. Il flash a slitta è più piccolo di una luce continua da studio, ma i flash da studio sono grandi come una luce continua da studio. Quindi sia sempre lì. E allora, quali compro? Chi mi segue da un po' sa che la risposta come al solito è dipende. Allora, la prima domanda che bisogna farsi è faccio le foto dentro o fuori? Se le faccio dentro posso compare sia un flash con una luce continua. Se le faccio fuori è meglio che mi compro un flash oppure una luce continua con il generatore. La seconda domanda è quanto sono pratico di illuminazione in fotografia? Perché se sono pratico posso compare serenamente un flash che tanto in breve tempo sarò in grado di usarlo. Se invece sono meno pratico posso compare sia un flash insieme con un corso di gestione dell'illuminazione e fotografia che una luce continua che invece mi semplificherà un po' le cose per imparare a vedere l'effetto che voglio. Anche se il corso di illuminazione te lo consiglierei comunque. La terza domanda che bisogna farsi è mi serve per un secondo punto luce? Se quello che bisogna fare compare un secondo punto luce perché ne abbiamo già uno. Allora se abbiamo già un flash compriamo un altro flash oppure una luce led continua con una temperatura certificata di 5000 k. E deve avere un indice CRI elevato. L'indice CRI è quello che ti indica quanto quella luce rende fedelmente i colori. Più l'indice è vicino a 100 più la luce non avrà dominanti quindi devi trovarne uno che è un indice molto vicino a 100. Se invece abbiamo una luce led andiamo a comparne una uguale così stiamo tranquilli che la luce che emetterà sarà identica a quella che abbiamo già. Ultima domanda se devi invece comprare diversi punti luce cioè devi praticamente rifare un set luce X novo puoi fare tre cose anche qui. Cioè puoi comprarti tutti i flash puoi comparti tutti i led uguali per modello e marca oppure puoi mescolare led e flash. E come sopra devi stare attento alla temperatura colore e all'indice CRI. Bene per questo video è tutto alla prossima! Ciao!